popoleranno la terra per altri 24.000 anni. Sono ottimamente adattati al freddo, ma quando il clima tornerà a farsi più caldo, le pianure erbose da cui essi dipendono spariranno. Gli uomini invece hanno davanti a sé un futuro diverso. Sono in grado di adattarsi ai cambiamenti e hanno la capacità di plasmare il mondo che li circonda. Un giorno riusciranno anche a guardare indietro al loro passato. Adesso costruiamo musei per celebrare le nostre origini e passiamo anni a studiare la vita degli animali preistorici. Ma se c'è una lezione che abbiamo imparato da tutto ciò è che nessuna specie dura per sempre. Grazie a tutti. Grazie a tutti.